Se i giornali non hanno più niente da dire di notizie nuove, vuol dire che andiamo proprio a catapace. Date allora la notizia dell'incontro di Teano e così si è caputato. Va bene? Prof, un saluto, prof, un saluto. Auguri, prof. Un saluto per la stampa, grande prof. Dall'alto così ci piace, grandissimo. Grazie, grazie di esistere. Mentre noi dobbiamo dire grazie all'Alma Mater, perché se siamo qualcuno ognuno di voi è per l'Alma Mater, nel suo caso è l'Alma Mater che dice grazie a lui che gli deve molto, che l'ha resa più nota, più appiettibile e anche così più allegra. Grazie, grazie di esistere. Grazie. 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 Grazie.